Abbraccio a casa, abbraccio a casa Commentate, commentate Commentate, commentate Eh, guarda, guarda, oggi sono andato a mietere Guarda cosa c'è là Oh, 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 chiedo tu! Da che sei di là? Qu'e'oc spirito? Uproverà Grazie a tutti 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 Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti